della seduta odierna all'ordine del giorno, reca il seguito della discussione e il disegno di legge già approvato dal Senato di Delegazione Europea 2014. Ricordo che nella seduta di ieri era stato da ultimo approvato l'articolo 13. Passiamo all'esame dell'articolo 14. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni immediate procedimento elettronico, decorrono a questo momento i termini previsto di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49 del Regolamento. Allora, io intanto invito il relatore a dare i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 14. Sì, grazie Presidente. Il parere sugli emendamenti all'articolo 14 è contrario per tutti gli emendamenti. Bene, Governo immagino che sia conforme. Conforme, Presidente. Perfetto. A questo punto io sospendo la seduta che riprenderà alle ore 10. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie a tutti.